5, 4, 3, 2, 1, ole! Sabato scorso avvigiamo in provincia di Potenza l'inaugurazione di un nuovo campo da padel che di fatto arricchisce ed amplia l'offerta dei servizi della cittadella dello sport. Il padel è uno sport che piace perché crea socialità e diverte. Nel caso degli italiani richiama anche un po' la dimensione delle vacanze al mare passate a giocare con i racchettoni sulla sabbia. Dalla fine della quarantena da Covid-19 è diventato uno sport considerato alla moda, apprezzato anche dai personaggi famosi. Il sindaco Amedeo Cicala ha espresso grande soddisfazione per il completamento di questo progetto. Con il campo da padel e dopo l'inaugurazione dei nuovi parcheggi completiamo una parte dell'offerta relativa alle strutture della nostra cittadella. Al termine di anni di impegno dunque a Vigiano viene così realizzato un polo sportivo all'avanguardia che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per tutti gli sportivi della valle. Adesso si guarda già ai prossimi obiettivi, fra questi la realizzazione di un campo da tennis scoperto.